ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su lele king tv e con questo ce lo mi manca di euro 2020 preview ragazzuali queste sono le figurine dell'ultima giornata sticker cap che abbiamo vissuto insieme allora siamo pronti ad attaccare io l'ho girato subito dopo l'ultimo video da sticker cap di solito faccio così quindi non so come andata fino a sticker cap io ho fatto un buon punteggio nell'ultima partita contro sfumatoso però non so se è stata sufficienza per riuscire ad agguantare stickers che era primo in classifica anche perché se stickers ha vinto non ci sono speranze se stickers ha perso ci sono delle speranze di poter riacciuffare la classifica anche se molto molto piccole come ho detto nel video perché stickers aveva una differenza rete di più 5 quindi anche andando a pari punti non sarebbe facile riuscirlo ad agganciare però la speranza dell'ultima morire io non so come andata finita questa sticker cap queste sono comunque le figurine di quell'ultimo spacchettamento la prima abbiamo trovato la numero 7 che va qui non ho capito perché poi ragazzuali questa c'è la scritta vabbè comunque va qui questa figurina qui quindi il verso è questo qui perfetto con la scritta UEFA Euro 2020 andiamo all'Austria che è la prima squadra la numero 6 ce l'abbiamo la numero 28 mi pare che ce l'ho eh sì ho riconosciuto il capello ce l'ho passiamo al Belgio dove abbiamo Courtois che c'è e poi abbiamo trovato Company con il numero 17 che invece ci manca Company ci manca poi andiamo alla Croazia dove troviamo le sultanze ce l'abbiamo Vida ce l'abbiamo Raktic con il numero 20 ce l'abbiamo passiamo alla Repubblica cieca dove troviamo il numero 7 che è il portiere e questa ci manca poi abbiamo la numero 12 che invece abbiamo sempre della Repubblica cieca eccolo qua la numero 15 ce l'abbiamo anche lui eccolo e la numero 20 che invece ci manca che va qui sopra della Danimarca non abbiamo trovato niente passiamo direttamente all'Inghilterra che è la nostra squadra in questa sticker cup la numero 7 ce l'abbiamo la numero 11 ci manca la numero 12 altra mancante Walker con il numero 16 ce la abbiamo il numero 19 ci manca praticamente l'Inghilterra ragazzuoli che è la squadra che abbiamo portato ci ha detto pure bene perché c'è adesso vi faccio vedere molte ce l'avevo già perché per esempio lo stemma già l'avevo trovato cioè non ho trovato né stemma e né il capitano durante gli spacchiettamenti se ho sbaglio da sticker cup l'ho trovato in altri spacchiettamenti però praticamente ci mancano soltanto due figurine per completare la pagina dell'Inghilterra quindi ci ha detto bene la numero 7 della Spagna ce l'abbiamo come diceva anche ce l'abbiamo poi abbiamo la numero 28 moreno della Spagna e c'è ecco qua moreno della Finlandia abbiamo trovato la figurine dell'esultanza eccola qua la numero 7 che abbiamo ecco della Francia troviamo lo stemma che ci manca poi abbiamo la numero 16 che ci abbiamo eccolo qui sotto Matt ID col numero 19 che invece ci manca Giro con numero 24 anche lui ci manca e la numero 26 Coman anche questa è una mancante il nostro album e la andiamo a sistemare qua della Germania troviamo la numero 3 soltanto questa ma è una figurina buona perché ci manca poi passiamo all'Italia dove troviamo numero 14 Acerbi che si va incastrare qui buono la numero 22 Sensi ci manca e insigne invece ce l'abbiamo per quanto riguarda nazionale italiana passiamo all'Olanda lo troviamo devrai con numero 13 eccolo ci manca devrai la numero 14 la numero 14 ce l'abbiamo passiamo alla Polonia dove troviamo la figurina speciale di Lewandowski col numero 6 eccola eccola la numero 18 ce l'abbiamo passiamo alla Polonia e al Portogallo dove abbiamo lo stemma che è doppione Beto che è doppione eccolo la numero 17 Mutigno ci manca Mutigno poi passiamo alla Russia ed è una piccola dove abbiamo la numero 15 dove che guardate dove si va incastrare la numero 15 qui perfetto poi passiamo alla Svizzera dove abbiamo la numero 9 che ce l'ho la numero 17 Zagaria che se non sbaglio ce lo dovrei avere infatti ecco la Zagaria c'è passiamo alla Svezia dove abbiamo la numero 15 Lindelof che ce l'ho della Turchia troviamo Munok portiere ce l'ho Under con il numero 19 ce l'ho passiamo all'Ucraina dove troviamo la numero 18 eccola è doppione la numero 20 invece ci manca poi passiamo al Galles dove troviamo il numero 6 che è la figurina del capitano Bale poi abbiamo la numero 20 Wilson che c'è la numero 15 ce l'abbiamo la numero 15 è indietro perché siamo andati direttamente alla 20 no la numero 15 ci manca che stiamo dicendo che stiamo dicendo ci manca la numero 15 e poi abbiamo la numero 22 che invece c'è eccola qua ragazzi per questo ce l'ho mi manca è tutto io vi saluto questi sono i doppioni che abbiamo trovato queste sono le figurine che abbiamo messo sono una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciasette diciotto diciannove venti ventuno non è male non è male ok ragazzi io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti